buongiorno buongiorno come potete dire oggi fuori c'è il sole c'è il sole finalmente erano mesi che qua non c'era il sole quindi stamattina che cosa faccio mi sono svegliato cosa ho fatto anzi mi sono svegliato ho caricato subito un paio di lipo e vado a farmi un paio di lipo andiamo a divertirci un attimo ma prima andiamo ciao sto facendo un hyperlapse col drone col mavic e praticamente fa tutto da solo ciao 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 Bene, anche questa ludo mattina è finita Adesso si va a casa Si prepara da mangiare E si va a lavorare